Con fiducia ancora, due domeniche fa credo che tu mi feci un'intervista dove quasi quasi si stava già pensando una categoria diversa, invece con fiducia si disse va bene ancora non siamo spacciati sinché c'è la luce accesa, noi ci crediamo, la scuola sta lavorando con entusiasmo isolandosi da situazioni che non ci interessano e quindi oggi abbiamo fatto una partita diversa, difficile dove si è vinto attraverso l'orgoglio, aver chieduto sino in fondo con carattere, con una buona personalità, certo non è stata una partita bellissima dal punto di vista delle giocate perché si sentiva troppo la tensione di questa partita però a fine si vincono anche così, anche perché in questa stagione quando abbiamo giocato un buon calcio non siamo riusciti a vincere perché gli episodi ci hanno penalizzato, andiamo avanti, domenica ci aspetta un'altra battaglia, ormai sono tutte così le nostre partite e affrontiamola col giusto spirito